si mette dietro e questa è la prima notizia e Udine va davanti anche questa era abbastanza pensabile quindi Udine davanti su Fantastic Love che si sistema lì insieme a Quebec a largo ci sono i due di scuderia che sono Xilano e Top of Esteam con cap bianco e cap rosso a distinguere i due Xilano a largo e Top of Esteam ancora più all'esterno con Xilano che muove in coda insieme a Red Spirit a fare i spenti e questa è un'altra notizia della prova quindi Udine che comanda su Xilano, Fantastic Love che ha vicino Top of Esteam Quebec e Rose in posizione come la prima Formiolli, sesto di fuori in terza pariglia coperto poi Tripix che precede anche Daxter che è in pancia al gruppo insieme a Sgrishinus che è l'altra giuba verde in coda a Farispenti e Red Spirit Udine porta a spasso la compagnia capeggiata da Xilano e in corda Fantastic Love vicino a questi Rose in quest insieme a Top of Esteam largo muove Deister con Sgrishinus in corda Quebec poi Affari Spenti Udine prova a allungare a traguardo molto lontano su Fantastic Love poi Rose in quest che si affaccia su Xilano Top of Esteam, Deister, Quebec Tripix, Sgrishinus, Red Spirit in coda a Farispenti molto raccolti ore concorrenti quando Rose in quest si libera dalla quarta posizione mentre intanto Fantastic Love anticipa a tutti va su Udine poi il recupero cercato da Rose in quest in mezzo alla pista con Udine che prova a scappare da Fantastic Love, da Rose in quest da Top of Esteam, poi Tripix allargo Deister, allargo di tutti i affari spenti con Fantastic che attacca Udine, in corda c'è anche Quebec poi Rose in quest con Fantastic Locke, Quebec in corda con Fantastic Love in leggero vantaggio, Quebec che gli fa lo spunto poi Rose qui che cambia marcia ora con la frusta cambiata Rose in quest che attacca Fantastic Locke all'interno Quebec, Quebec, Fantastic, Fantastic e Quebec Quebec, ma che forma che hanno questi cavalli Quebec e Fantastic Love, la forma di scuderia Fantastic trova sempre qualcuno sulla sua strada da oggi potrebbe aver trovato Quebec, è stretta però eh tempo di galoppo però a favore di Quebec rivediamola davanti alla colazione, terzo è Rose in quest è strettissimissimissima arca miseria c'è niente sembrava più netta dall'altra inquadratura siamo al limite della parità vi dico la verità se avessi avuto Quebec l'avrei già spesso dall'altra inquadratura ma come spesso e volentieri accade la telecamera stato rossore non è in asse col palo e rimette in discussione Fantastic Love e Quebec terzo è Rose in cui quarto è Udine poi Red Spirit che finisce forte ma tardi a precedere top of esteem buono per la prossima metri pixel strettissima da questa inquadratura ne avresti avuto dubbi ma il palo è così è questa è vedete perché l'immagine è dopo il palo e questa invece è l'immagine vera anzi un centimetro prima del palo è avanti Fantastic Love sul palo si va al limite della parità Sandro Enrico scusa velocemente sentiamo i due Fantini Domenico Mighelli Quebec l'impressione da cavallo è impossibile però speriamo non lo esclude Domenico Mighelli con Quebec sentiamo Cristiano Di Stasio Fantastic Love è bruttissima siamo un po' a larghi e non so valutarla incertezza non poteva essere altrimenti e con questo si chiude la giornata odierna aspettiamo